Referendum sulla durata delle trivellazioni in mare bocciato ieri in Italia dove a recarsi alle urne è stato solo il 31,19% degli aventi diritto. Il non raggiungimento del quorum previsto quindi lascerà invariata la normativa prevista dalla legge di stabilità dal governo Renzi che modifica la durata delle concessioni sull'estrazione dei giacimenti di petrolio degli attuali 40 anni sino all'esaurimento del giacimento stesso. Inutile la contrarietà espressa dall'85,84% degli elettori che ieri si sono recati alle urne e che hanno segnato sì al quesito referendario. In Sicilia l'affluenza alle urne è stata inferiore a quella nazionale, sull'isola infatti ha votato il 28,40% degli aventi diritto. Il dato aggrigentino sull'affluenza alle urne è leggermente superiore alla media regionale. Nei 43 comuni della provincia ha votato il 30,63% degli aventi diritto. L'unica città a superare la soglia del 50% più uno è stata Sciacca, dove alla chiusura dei seggi l'affluenza è stata pari al 53,95%. Nel capoluogo di provincia ha votato il 28,52%, negli altri centri con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ovvero Licata, Canicattì e Favara, l'affluenza è stata rispettivamente del 31,23%, 27,18% e 25,52%. Spostandoci nella città di Favara, nelle 35 sezioni elettorali, dei 26.012 a 20 diritto si sono recate alle urne 6.641 cittadini. Il sì a Favara ha raggiunto il 93,67% delle preferenze espresse, con 6.159 voti. Le schede nulle sono state 52, mentre le bianche 14. L'appuntamento di ieri era stato snobato dallo stesso presidente del Consiglio, che aveva indicato la via dell'astenzionismo. Favorevole all'abrogazione del testo, invece, si erano detti numerosi partiti politici, tra questi anche il Movimento 5 Stelle, che, secondo recenti sondaggi, sarebbe il primo partito italiano. Ma dal referendum i partiti e i movimenti possono leggere diversi dati politici rilevanti, anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Una lotta quella sul referendum, che deve fare conti pure con la sfiducia popolare nella classe politica. Molti elettori probabilmente non si sono recate alle urne non per le indicazioni del Premier, ma per la delusione già subita 5 anni fa in occasione del referendum sul ritorno alla gestione pubblica dell'acqua, oltre che per una sempre più diffusa disaffezione a questo sistema di democrazia diretta negli ultimi 40 anni, sempre meno utilizzata dagli elettori.